Prosegue lo stato di agitazione degli studenti pendolari che frequentano gli istituti superiori di Nuoro. Dopo la manifestazione di ieri davanti alla stazione dell'Arst in Viale Sardegna, che per quasi tre ore ha paralizzato i trasporti extraurbani, la protesta è ripresa stamattina anche se per pochi minuti. I ragazzi infatti hanno desistito per evitare di incorrere nel reato di interruzione di pubblico servizio. A questo punto gli studenti pendolari hanno deciso di spostarsi verso il comune di Nuoro per chiedere al sindaco un intervento presso l'Arst che sblocchi la situazione di disagio che quotidianamente i ragazzi devono subire. Infatti sono costretti a viaggiare su pullman insufficienti in numero e inadatti sotto il profilo della sicurezza e del comfort. Una delegazione di studenti è stata ricevuta dal sindaco Alessandro Bianchi, cui sono state elencate le motivazioni che hanno portato alla protesta. Il sindaco di Nuoro, spiega una nota del comune, ha definito intollerabile la situazione descritta agli studenti. Considero la vostra protesta legittima a sottolineato il sindaco Bianchi perché riguarda la vostra dignità di studenti e il vostro legittimo diritto allo studio. Capisco le difficoltà ma vi invito a gestire la protesta sempre restando nell'ambito della legalità. Non fatevi trasportare da reazioni dettate dall'istinto, dovete raccogliere solidarietà e dovete farlo nel modo giusto, senza reazioni sconsiderate che potrebbero farvi passare dalla ragione al torto. Lavoriamo tutti insieme per trovare una soluzione. Il primo cittadino ha ricordato agli studenti di aver già contattato i vertici provinciali dell'Arst. Sarà mia cura, conclude la nota del sindaco, portare la situazione all'attenzione dell'assessore regionale dei trasporti Massimo Deiana. Prenderemo contatti con i sindaci dei paesi interessati, con l'amministrazione provinciale e con l'ufficio scolastico provinciale per farci carico tutti insieme del problema e arrivare a una soluzione. Al termine dell'incontro gli studenti si sono spostati in questura per chiedere l'autorizzazione a svolgere la manifestazione.